Ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione su Telecittà. Sono in corso indagini per identificare i rapinatori che qualche sera fa hanno teso un agguato a un'imprenditrice del Trevigiano, proprietaria di alcuni negozi nel campo dell'abbigliamento. La donna stava rientrando a casa dopo la chiusura del negozio, quando è stata superata da un mezzo sospetto che poi si è trovata davanti all'ingresso di casa. Dal mezzo sono scesi degli sconosciuti che l'hanno minacciata e si sono impossessati della borsa contenente l'incasso dell'intera giornata lavorativa. Sono stati attimi concitati, subito dopo sono intervenute le forze dell'ordine che adesso stanno conducendo le indagini del caso. Sempre cronaca paura a Padova dove una donna ha minacciato di uccidere i propri bambini di 5 anni e di togliersi la vita. Sventata una tragedia immensa grazie all'abilità dei carabinieri che hanno trovato l'auto. I carabinieri di Padova hanno sventato una tragedia e arrestato una giovane mamma che voleva uccidere il figlio di 5 anni e poi togliersi la vita. Il bambino è stato salvato grazie all'abilità dei militari che hanno intercettato la donna. Era già in auto con il piccolo al quale aveva dato una dose massiccia di psicofarmaci ed era privo di sensi sul sedile posteriore. Anche lei era visibilmente in stato confusionale. La donna aveva inviato dei messaggi vocali ai familiari annunciando le sue intenzioni. Immediatamente è stato chiesto aiuto al 112. Le indagini avviate dai carabinieri della stazione di Legnaro e di Piove di Sacco, in collaborazione con i colleghi del comando provinciale di Padova, hanno portato al ritrovamento dell'auto in via Trieste. Immediato l'intervento del 118, anche perché il piccolo non rispondeva ai richiami. È stato subito trasferito all'ospedale pediatrico ed è fuori pericolo. La mamma è stata arrestata in flagranza del reato di tentato omicidio, aggravato e quindi ricoverata, come disposto dall'autorità giudiziaria presso un'idonea struttura psichiatrica. Un motociclista di 38 anni, Anthony Pavan, di Roncade, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla Treviso Mare. L'uomo era alla guida della sua moto quando si è scontrato con un'auto. Al momento la dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione. Il 38enne è caduto con violenza a terra, riportando traumi gravi che sono risultati purtroppo fatali. Torre di Mosto, rogo in un'azienda. Sono in corso le indagini per appurare le circostanze in cui sarebbero partite le fiamme. Vediamo il servizio. Erano passate le 21 del 1 maggio, quando è scattata la richiesta di soccorso. Erano in atto fiamme altissime all'interno di un'azienda di Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Le squadre dei Vigili del Fuoco, a corse da Sandonà, Portogruaro e Mestre, con due autopompe, due autobotti, un'autoscala e 16 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intero cappannone. Tre furgoni sono andati bruciati, oltre ad altro materiale depositato all'interno dello stabile. L'azienda si occupa di sistemi automatizzati elettronici e pneumatici. La struttura è stata danneggiata parzialmente. Presenti sul posto i carabinieri, le cause del rogo al momento non sono state identificate, ma gli uomini dell'arma stanno eseguendo degli accertamenti per appurare le circostanze in cui sarebbero scoppiate le fiamme. Non viene esclusa l'ipotesi che all'interno dell'azienda fossero entrati degli estranei, magari nel tentativo di perpetrare un furto. Dopo le 14 di ieri un cittadino polacco che si era lanciato con il parapendio dal Monte Grappa è rimasto ucciso, l'uomo improvvisamente precipitato al suolo, dopo un volo di 50 metri. Le cause al momento non sono note. Sul posto sono arrivati soccorsi, ma per il pilota non c'è stato nulla da fare. E' stato accerchiato da una decina di giovanissimi, preso a calci e pugni e rapinato del cellulare. E' accaduto all'Onigo, in provincia di Vicenza, vittima dell'aguato un 37enne marocchino che stava guidando la sua bicicletta, mentre pedalava, secondo il suo racconto sarebbe stato avvicinato dal gruppetto che voleva il suo telefono. Al suo rifiuto sarebbe stato aggredito e rapinato sia del telefono che della bici. In suo soccorso sono arrivati i carabinieri chiamati da numerosi cittadini allarmati per il pestaggio. Parliamo adesso di sicurezza a Padova. C'è stato un blitz in palazzo davanti alla stazione. All'alba, uomini della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Padova, supportati da pattuglie di rinforzo del Reparto Prevenzione e Crimine del Veneto e dal secondo reparto mobile di Padova, hanno effettuato una serie di controlli all'interno del complesso immobiliare Torre Belvedere in piazzale stazione a Padova. Il palazzo è noto per la presenza all'interno di affittacamere abusivi a persone per lo più stranieri irregolari dedicate ad attività illecita. La tasca forza, composta da oltre 70 uomini, è scesa in campo a partire dalle 6 del mattino e effettuato servizi di pubblica sicurezza di pulizia amministrativa e pulizia tributaria all'interno di 12 unità abitative. al fine di verificare l'identità degli occupanti, la regolarità dei documenti degli stranieri, la regolarità ai fini fiscali e tributari dei titoli di occupazione dei contratti di locazione, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità alla presenza di un tecnico del settore sicurezza del comune di Padova. L'operazione è stata disposta dal questore di Padova dopo numerose segnalazioni. Identificate complessivamente 117 persone, di cui 37 pakistani e 80 cinesi. Di questi, 17 sono risultati privi di documenti validi per il soggiorno sul territorio nazionale e pertanto sono stati condotti in questura, dove sono stati sottoposti a fotosegnalamento e posti a disposizione dell'ufficio immigrazione per le procedure di espulsione. Tutti sono stati denunciati per il reato di immigrazione clandestina, un cinese anche per il reato di falso, perché trovato in possesso di una patente rumena falsa. Tre conduttori cinesi sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, che ospitavano cittadini irregolari, per una somma che oscilla dai 5 ai 20 euro. Nel corso dei controlli sono stati riscontrati all'interno delle singole unità abitative da 9 fino a 26 posti letto e in tre casi è stata riscontrata l'inidoneità degli impianti elettrici e di gas. Pertanto seguirà l'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco, che impone in solido al proprietario e al locatore di porre in sicurezza gli appartamenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della squadra amministrativa della Questura, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, per accertare le irregolarità amministrative e tributarie nei confronti dei diversi conduttori. Violenta rissa in un'abitazione di Bovolone in provincia di Verona. Un 41enne romeno è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo era ospite di altri suoi connazionali. Durante la cena è scoppiata una lite degenerata. Il 41enne, che era visibilmente alterato dall'alcol, ha preso un coltello da cucina con il quale ha minacciato il padrone di casa. Il terzo amico per difendere il padrone di casa ha tentato di bloccarlo, ma è rimasto gravemente ferito ad una spalla. Trasportato all'ospedale si trova adesso in prognosi riservata. L'autore dell'aggressione è già in carcere. A Mestre un albero di 20 metri è caduto su un palazzo. Nessun ferito, ma la paura è stata molta. Il crollo è stato improvviso. Per ore sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco, che nella stessa giornata e nella stessa città sono intervenuti anche per un altro episodio. Dei rami hanno bloccato la circolazione dei tram. Vi raccontiamo adesso questi due fatti. Il 1 maggio un albero alto 20 metri è improvvisamente crollato, finendo addosso ad un condominio di Mestre. È accaduto in via dello squero. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono stati molti. La grossa pianta, cadendo, ha rotto i vetri di un appartamento, ha battuto numerosi cavi elettrici e danneggiato una tubatura del gas. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto con numerose squadre al recupero dell'albero e a rimettere in sicurezza l'area. Poche ore più tardi, un grosso ramo di un'altra pianta è caduto sopra i fili della linea del tram in Viale San Marco. Ovviamente il servizio è stato sospeso fino al ripristino della situazione. Anche in questo caso è stato indispensabile il lavoro dei pompieri. Grave incidente stradale a Refrontolo in provincia di Treviso. Due automobili, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all'altezza di un incrocio. Il bilancio è di sei persone rimaste ferite, una in modo grave. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La viabilità è rimasta bloccata a lungo con inevitabili disagi per il traffico. L'incidente si è verificato intorno alle 9 di stamattina. Concludiamo come sempre dando un'occhiata al meteo. Giungono dal nord atlantico a tratti masse d'aria umida con debole circolazione ciclonica che specie sulla parte centro-settentrionale della nostra regione porteranno venerdì e sabato a varie fasi nuvolose con delle precipitazioni. Nel fine settimana è atteso il transito di una più significativa perturbazione associata a instabilità con frequenti precipitazioni e con un significativo abbassamento anche della quota neve e temporaneo ma sensibile calo termico. Da lunedì poi la pressione tornerà in aumento, schiarite e ripresa delle temperature a partire dai valori diurni. È tutto anche per oggi per quanto riguarda l'informazione su Telecittà. Come di consueto vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.